E' finita con la vittoria del detentore del titolo tricolore, il toscano Simone Rao, il match che si è svolto a Piedimonte Matese dove il matesino Vittorio Parrinelli ha tentato l'impresa contro il campione italiano dei pesi Viuma. Come campione in carica non ha fatto nulla per dare al match una parvenza di bugilato, purtroppo forse quello di ieri sera si può definire l'incontro peggiore visto da queste parti dove la box non si è vista per nulla. La riunione ha visto sullo quadrato di Piazza Roma gremitissima di sportivi appassionati ben nuovi incontri di dilettanti, due di professionisti. Buona la prestazione del professionista Antonio Mennillo che ha battuto ai punti il bulgaro Stefan Sashev per i pesi Super Gallo che è stata poi una delle note positive della serata insieme all'esibizione dei ragazzi della pugilistica matesina che ha organizzato la riunione insieme al comune di Piedimonte Matese. A fine match Parrinelli si è detto comunque soddisfatto. Esco a testa alta e sono felice, ha detto, di quello che ho fatto a 40 anni contro un bugile non facile. Forse, questo va detto, il pareggio poteva essere il verdetto più giusto. Da Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso ed Emilio Bianchi per casertasera.it